Roberta Chiurlia, arbitro internazionale, numero 3 al mondo attualmente. Quali sono le tue impressioni su questo campionato del mondo junior in Italia, in Sardegna? È stata una competizione davvero di alto livello e con questa età è sempre bello arbitrare perché non hai mai la percezione di quello che può accadere, devi essere sempre concentrato perché sono molto istintivi e hanno già il corpo, l'atletismo e la preparazione degli adulti quindi è davvero una bellissima competizione ed essere in Sardegna per me è stato davvero un orgoglio. Grazie. 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 Grazie.